Eccoci qua, allora possiamo partire. Bentrovati a tutti. Nelle arti visive, il gruppo di Bloomsbury acquistò veramente rilevanza negli anni 10 del Novecento, dopo che ne entrò a far parte Robert Fry, che diede un grandissimo contributo per promuovere una specie di consapevolezza sull'arte moderna. Poi con l'andare del tempo il gruppo si trovò ad essere costituito grosso modo da due sottogruppi di artisti, da una parte i pittori e dall'altra gli scrittori, per cui gli incontri divennero non più uno a settimana, ma due. Il giovedì rimarrà quello degli scrittori e il venerdì, che verrà ribattizzato poi The Friday Club, appunto Friday vuol dire venerdì in inglese, per i pittori. E al Friday Club si unirà fin da subito Roger Fry, appunto che lo influenzerà anche profondamente. lui, Roger Fry, che è stato un critico d'arte, pittore, scrittore, animatore di una stagione londinese felicemente creativa tra il gruppo di Bloomsbury e i laboratori Omega. Uno storico dell'arte, Kenneth Clark, ha definito l'opera di Fry la più grande influenza sul gusto dai tempi di Ruskin e si deve infatti a lui il passaggio della manica della modernità di Cézanne, Picasso, Matisse, del resto fino allora quasi sconosciuti sul suolo britannico. Lui aveva studiato scienze naturali all'università di Cambridge, di cui un po' la sua destrezza nel parlare con acume di argomenti che potevano apparire magari lontani tra di loro, e poi insegnò storia dell'arte alla Slade School of Fine Arts di Londra. Ma dal 1906 al 1910 si trasferì a New York, dove divenne il curatore dei dipinti per il MoMA, per il Metropolitan Museum di New York. Fry fu un'intelligenza eclettica non solo per i contributi specialistici storico dell'arte, fu lui, guardate, a coniare la famosa parola post-impressionismo, che era anche il titolo di un suo libro dedicato a questa promessa di una nuova arte. Ma fu anche tra i primi a mescolare le carte dei mondi delle arti del suo tempo. Infatti quando nel 1910 ritorna, dopo l'esperienza new yorkese in Inghilterra, organizza fin da subito una grande mostra dedicata proprio ai post-impressionisti, mostra che si terrà alla Grafton Galleries di Londra. Una mostra che fu un vero e proprio shock culturale. Erano esposti i Manet, i Cézanne, i Van Gogh, i Gauguin, i Derain, i Rouault, i Picasso, e insomma tanti altri. E una tra i tanti partecipanti di quella mostra fu anche Virginia Woolf. Ci andò mentre la folla, inferocita, sbraitava, scossa dai quadri che venivano definiti inquietanti. E stupefatta, si fermò delle ore davanti a quel miracolo creativo che per lui erano le mele di Cézanne. Che cosa non possono fare sei mele? Appunterà Virginia sul suo diario. Rimase affascinata dall'intelligenza anticonformista di questo amico, Frey, per la libertà del suo pensiero, la passione con cui aveva la possibilità di convincere gli altri a questa nuova vena pittorica, le sue profonde convinzioni del rinnovamento che questi pittori stavano attuando. E quando Frey porta a Londra i quadri di Van Gogh, di Matisse, di Cézanne, in questa mostra epocale, Bloomsbury divenne una specie di spartiacque tra due epoche. Una era ancora un quartiere alla moda, ma la stagione, anche se proprio Virginia Woolf non tardò a definirla la stagione più inquietante del Novecento, dette una scossa al mondo circostante e pur con diversa provenienza, vide amalgamati un gruppo di personaggi del tutto eterogenei, spinti però dall'amore per il nuovo, per la ricerca del bello, del vero, non necessariamente dovendo rinnegare completamente il passato, interessati ai propri sentimenti, ma desiderosi anche di schierarsi contro i tabù e gli steccati del passato. In una lettera a Virginia del 19 ottobre del 1911, la sorella Vanessa Sudigiri confessa, per quanto ci riguarda siamo in un enorme stato di eccitazione dopo aver appena comprato un Picasso, eccolo qua, un Picasso per quattro dollari. Mi chiedo come ti piacerebbe? È un colore cubista, molto bello, una piccola strana natura morta. Fu in questo periodo che Vanessa e Duncan realizzarono i dipinti di più audace sperimentazione, dandosi anche loro all'astrattismo puro, anche se sarà lo stile figurativo, ricco di colore a caratterizzare le opere di questa coppia di artisti. Tanto che diventerà il loro stile lo stile del Bloomsbury Group, quello più tipico. Nel XIII, Fry fondò un laboratorio di design chiamato Omega Workshops. Tramite libri, conferenze, oltre alle due mostre sul post-impressionismo, lui fece un po' un'analisi di quelli che erano i fruitori d'arte, un'analisi molto pespicace che gli divideva in categorie che sono giudicate ancora oggi attuali. Ci sono gli snob, i borghesi e i veri cultori dell'arte, che al pari dei veri artisti erano e saranno sempre dei rivoluzionari anarchici. All'Omega Workshop, al numero 33 di Fitzroy Square, collaborano molti artisti, oltre a Vanessa Bell e Duncan Grant. Lì si lavora, si espone, lì arrivano i clienti a comprare. E i clienti sono Virginia Woolf, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Eats, Foster, oppure eccentriche figure dell'alta società come Lady Ozzolin Morrill o Maude Kuhner. Spesso, anzi, quasi sempre, si incontra lui, Roger Frye, che accompagna magari Gertrude Stein, che si aggira lenta tra i colori brillanti delle stoffe, i tavoli, le sedie, dipinte da Vanessa e da Duncan, le meraviglie delle posate di Frye, delle tazze e ceramiche alla Matisse, dei gatti in terracotta. Non c'è un altro negozio simile in tutta Londra, non c'è un altro luogo così nel mondo di quegli anni, tra il 1913 e il 19, sei anni indimenticabili. Roger Frye teorizzò l'esigenza del superfluo, perché l'arte di fatto non serve a nulla, serve soltanto a sollecitare lo spirito di chi ha la sensibilità di poterla riconoscere. Se devo descrivere la signora Brown che incontro in treno, spiegava Virginia Woolf, io scrittrice non le metterò addosso un vestito che segnala al lettore la sua classe sociale, ma piuttosto entrerò nella profondità della sua coscienza, cercherò di fare affiorare nella lingua la sua immaginazione. In tre vite Gertrude Stein fa così, usa lo stesso moto, metodo. E sapete perché? Perché anche Gertrude Stein ha visto Picasso. E sapete come arriva Virginia Woolf alla sua scrittura, quel suo stile inconfondibile che conquista con la stanza di Jacob, con la signora Dalloway, con Gita Alfaro? arriva a questo perché ha conosciuto Roger Fry e lui ha conosciuto il gruppo di Bloomsbury e soprattutto Vanessa, Vanessa che era perdutamente, di cui lui era perdutamente innamorato. Una cosa è chiara, a quelli di Bloomsbury l'arte è vita, nel senso di un'arte che è un fare creativo, un'intensificazione forte, struggente dell'umana presenza al mondo e nel mondo. E questo è un quadro proprio di Fry. Per quelli di Bloomsbury chi vive crea. Crea di tutto, crea forme, rapporti, legami, amicizia tra parole e cose, tra emozione e colore, tra esperienza e il suono che l'afferra. Chi vive crea non solo opere, non solo romanzi, oggetti d'arte, ma anche uno stile, uno stile di vita, appunto. Nati per lo più in famiglie vittorianie, i giovani di Bloomsbury non si conformano, dissentono, si inventano altre forme di vita e di pensiero in cui spontaneamente l'estetica si intreccia con l'etica. Il bello e il bene si alleano nella volontà di un'espressione unica il cui fine è la verità dell'emozione. Loro vogliono il bene e il bello e lo cercano nell'esperienza concreta della loro vita. Vogliono amarsi seguendo cuore e sensi, senza regole imposte da differenze di genere o di patrimonio. vogliono scrivere romanzi non più a trama ma a ritmo per pubblicare e creano addirittura le loro case editrici. Vogliono creare cose belle per tutti, vogliono che una tazza sia allegra, spiritosa, che abbia i colori di matisse, che un tavolo e una sedia siano armoniosi, originali. E per questo nascono gli Omega World Shop, un atelier, una bottega dove l'arte della pittura e della scultura, del design, approfondiscono i loro rapporti senza distinzioni gerarchiche o di alcun tipo e dove al di là delle ipocrisie vittoriane trionfa il principio del piacere assoluto. Oltre che artisti e intellettuali, questi giovani sono imprenditori, rivelano la stessa intraprendenza nel campo editoriale come in quello artistico. L'oggetto riguadagna tutto intero il suo valore di piacere. Non è il denaro che compra l'oggetto, ma è la somma, la promessa di gioia che quell'oggetto potrà soddisfare. Nel 1914 Frey spiegava a un giornalista è tempo che lo spirito del divertimento si affermi negli oggetti dell'aredamento, nei tessuti. Abbiamo sopportato fin troppo a lungo l'estrema noia. Charleston, la casa di campagna nel Saxes, dove Vanessa e Duncan dal 1916 vivono in questo bizzarro menage e che vivranno lì per altri 60 anni, fu in qualche modo la residenza estiva di tutto il gruppo di Bloomsbury, luogo testimone di tante storie. Basta guardare attentamente il ritratto di Vanessa fatto da Duncan Grant, questo che vi faccio vedere. Basta guardare questo ritratto per capire la casa e quello che ha rappresentato nella storia non solo della letteratura inglese ma della cultura europea di tutto il Novecento. Vanessa, la vedete, è seduta in poltrona a un libro sulle ginocchia, dietro di lei c'è una grande finestra e se l'artista si fosse allargato nella sua visione dalla finestra si sarebbe potuta vedere un prato giallo, poi uno stagno e lontano Tilton dove viveva appunto Roger Fry che non poteva stare troppo lontano da Vanessa di cui era perdutamente innamorato. Accanto alla poltrona c'è si intravede lì in basso a destra un tavolino fatto di piastrelle dipinte e cotte proprio dal figlio di Vanessa Quentin che aveva la sua fornace a Charleston. I disegni della stoffa delle tende e quelli della decorazione delle pareti sono invece tipici di Duncan Grant. Charleston dice Virginia Woolf nei suoi diari non è in alcun modo una casa per gentiluomini dipende a Charleston Vanessa scelse di vivere con Duncan unica donna nella vita di questo giovane taciturno dalla pelle scura a Charleston arrivava Litton Strachey anche lui innamorato del tenebroso Duncan dagli occhi grigi che era inoltre suo cugino e qui Virginia incontrava il cognato Clive con il quale aveva avuto una lunga tormentosa oscura relazione anche lei e qui arrivava David Garnett l'amante di Duncan che diventerà poi il marito della figlia di questa strana coppia la figlia che Vanessa aveva avuto proprio da Duncan Grant Angelica qui quelli di Bloomsbury giocavano a scacchi discutevano d'arte di letteratura ma anche di giardinaggio pareti mobili su pellettili furono dipinti decorati e ridipinti e fotografati da tutti loro questa è una fotografia di un dettaglio della casa da questa casa dove si lessero ad alta voce i primi capitoli delle conseguenze economiche della pace di Minor Keynes dove si commentavano la scrittura e lo stile di Stretchy in la Regina Vittoria da quella casa semplice e un po' disordinata ci venivano però altri messaggi regole di vita basate esclusivamente sul buon gusto nessuno di loro fatta eccezione forse di Keynes che non a caso aveva saputo investire benissimo i suoi soldi nessuno dicevo nessuno di loro era ricco tolleranza ideologica intelligenza creatività talento ironia volevano anche dire casualità assoluta disinvoltura nessun tempo sprecare a seguire nessuna moda la moda di fatto la creavano loro sia nei vestiti che nell'arredamento ma nel 1934 improvvisamente muore Roger Fry che getta nello sconforto e nell'incredulità tutto il gruppo di Bloomsbury questo è un bel paesaggio che è abbastanza così un po' cimiteriale proprio ritratto da Roger Fry per Bloomsbury veniva a mancare il punto di riferimento in tema di viaggi e di mostre intimo amico di tutte e due le sorelle Steven di Vanessa Vanessa che decorò la sua tomba prima che lui fosse sepolto nel King's College Chapel di Cambridge e Virginia che ebbe l'incarico di scrivere la sua biografia pubblicata poi nel 1940 Fry era stato quello che aveva incoraggiato Virginia a scrivere con questo suo stile inconfondibile che lei prima sperimentò nei racconti e conquisterà poi a mano a mano nei suoi romanzi più famosi la stesura della biografia di Fry occupò Virginia Woolf per molti anni un libro che come lei stessa ammetteva ricreava molti dubbi molte preoccupazioni circa il modo di poter scrivere una biografia diversa da tutte le altre e lei affronta questo compito con accuratezza studia con attenzione tutta la copiosa corrispondenza di Fry che la famiglia gli ha messo a disposizione questa corrispondenza che lei intreccia con i ricordi personali un lavoro che la obbligava a rileggere molto del cammino di quegli anni che era stato fatto insieme la vita il lavoro l'arte che si fondono in un'opera che ancora oggi rimane il ritratto definitivo di questo artista ma anche di questo uomo di tutte le sue battaglie e di tutte le sue passioni che segnarono la sua esistenza e come ricordava Angelica Garnett la figlia di Vanessa quando si presentava con i genitori a casa dei Wolf zia Virginia serviva del tè con sandwich al cetriolo lei però mangiava poco per lo più fumava mentre raccontava storie che parevano fin troppo stravaganti per essere vere ma che alla fine si dimostravano più reali di quelle narrate da qualsiasi altro perché quel gruppo cercava di trattenere del passato solo quello che poteva essere utile al loro futuro Virginia e mia madre potevano essere straordinariamente moderne e rivelare di un tratto anche pregiudizi ideologici e morali la stessa emancipazione sessuale per loro veniva dopo il valore dell'amicizia e Bloomsbury iniziò inizialmente con dieci membri in seguito si andò ingrandendo e quando verso il 1920 alcuni tra i suoi membri cominciavano ad avere successo quando gli inviti piovevano gli articoli i libri vengono letti comincia a crescere anche lo scandalo era quello che il gruppo di fatto aveva sempre cercato le danze di Vanessa seminuda come una novella Isadora Duncan gli scambi di mariti di mogli le ostentazioni amorose i menage a Trois di gentiluomini con gentiluomini di signore con signore il gusto per l'arte d'avanguardia fanno bisbigliare tutti i salotti di Mayfair questi sono due bei nudi di Duncan Grant come sottolineava Vanessa non esitavamo a parlare di nulla si poteva dire qualsiasi cosa ci passasse per la testa sull'arte sul sesso sulla religione si poteva parlare liberamente e a volte anche in modo noioso di cose ordinarie della vita comune di tutti i giorni Blumswell insomma era diventato un indirizzo guardato con sospetto eppure era un fenomeno tipicamente profondamente inglese Virginia divenne disperatamente invidiosa del successo degli amici più cari di Litton Strachey di Catherine Mansfield di Foster se invidiò qualcosa alla sorella Vanessa la persona di fatto che lei amò di più la invidiò di aver avuto dei figli con un uomo Clive Bell di cui probabilmente fu anche innamorata e con cui diceva scherzosalmente anche di flirtare intanto il gruppo continuava la sua frenetica attività non solo artistica tra crolli nervosi e conferenze letterarie tra impulsi suicidi e torchi a mano tra te delle cinque grande creatività ci sono dettagli ancora più malinconici più squallidi nelle vicende dell'intelligenza di questi nuovi liberati della sessualità la Virginia Woolf le cameriere sapevano bene che offrendo il tè a un poeta come T.S. Iliot per esempio non bisognava spostare le carte gli intellettuali hanno più cura dei fogli che delle tazzine una sera del 23 giugno del 1922 si ritrovarono Leonard e Virginia Woolf con T.S. Hilliott Roger Frye e Mary Hutchinson e a un certo punto Hilliott lesse un poema come confida al suo diario Virginia l'ha cantato salmodiato ritmato è di grande bellezza e forza c'è simmetria tensione che cosa lo tenga insieme non lo so ha letto poi è dovuto scappare non si è potuto nemmeno discutere si è rimasti comunque con una forte emozione si intitola Terra Desolata Mary che l'ha ascoltato con attenzione lo interpreta come la biografia stessa di Tom piuttosto melancolica anche Virginia amava Thomas Hilliott che diverrà un assiduo frequentatore del Bloomsbury Group come invitato non ne farà mai parte come membro sebbene avesse un pallore mortale occhi chiusi fosse perennemente incavate sebbene apparisse sempre stupito e si tenesse a malapena sulle gambe c'era in lui qualcosa di nascosto di malevolo di sospettoso di complicato di perennemente nell'imbarazzo l'inqueta Virginia crede nella sua straordinaria intelligenza ed originalità ma lo trova anche marmoreo gelido colto ma distante prima che diventi famoso per lei è fin troppo pedagogico sinistro una specie di maestro di scuola elementare americano per di più molto vanitoso ma è anche un uomo spesso lugubre terribilmente infelice però è un vero poeta non c'è dubbio e di fatto i coniugi Wolf nel 1922 decidono di stampare a mano nella loro tipografia fatta in casa la Hogarth Press la terra desolata the wasteland ecco Thomas Hildiott che prima fa mille storie per accettare dagli amici un'annualità che gli consenta di licenziarsi dalla Lloyd's Bank e dedicarsi finalmente interamente alla letteratura e poi dichiara di non potersi accontentare di meno di 500 sterline all'anno perché non dirlo subito perché contorcersi e quindi soffocare dall'umiliazione alla sola menzione dei soldi è come vergognarsi di fare la pipì al cospetto della moglie ho avuto un colloquio indecoroso penoso col povero caro Thomas Hildiott è diventato un anglo cattolico crede in Dio e nell'immortalità va addirittura in chiesa ero sconvolta un cadavere mi sembrerebbe più autentico di lui voglio dire c'è qualcosa di osceno in uno che se ne sta seduto presso il caminetto e crede in Dio sua moglie Vivian è pazza ogni cosa che si dice la mette in sospetto allevate api le ho chiesto porgendole del miele vespe ha risposto dove ho domandato sotto il letto e poi Vivi puzza sparge sul pane la sua cipria da poco prezzo apre le lettere del marito mi sospetta addirittura di essere io Virginia la sua amante per Egliot scrivere lettere era la sua forma prediletta in prosa infatti ha generato un immenso epistolario che ancora oggi è ricchissimo di notizie su di lui nel 1933 ad una conferenza tenuta la Yale University aveva dichiarato un poeta può essere giudicato soltanto dalle sue lettere nel marzo del 25 scrive a Virginia Woolf la vita è semplicemente un orrore di minuto in minuto ha scoperto che la moglie Vivian Hydewood ha una relazione con Bertrand Russell per tutta risposta Virginia nel suo lucido snobismo scriveva Vivian eccola qua in una foto Vivian una tortura sopportarla tutto il giorno aggressiva delirante malsana imbellettata sfrenata è un'ofelia che nessun amleto potrebbe mai amare un laccio al collo per il povero Tom quel primo matrimonio del poeta con Vivian Hydewood fu lungo e tormentato lei era una donna intelligente spiritosa ma le sue condizioni subiscono un incessante deterioramento il cui sintomo è la sua frequente confusione mentale malata di depressione bipolare schizofrenica paranoica Elliot viene considerato quasi colpevole delle deplorevoli crudeltà nei confronti di questa moglie anche se quell'instabilità di Vivian ebbe un'influenza importante sull'opera del poeta senza Viv Elliot non avrebbe sicuramente composto nemmeno la terra desolata ma la preoccupazione per Vivian è costante per lui che rivela il suo rancore il suo senso di colpa e molto spesso esprime compassione per la fragilità mentale della moglie si preoccupa che rimanga senza amici si impegna ad occuparsi di tutte le sue cure mediche pur assorbito dal tormento di concludere la vicenda impossibile con Viv Elliot rimane sempre un lucido interprete del suo tempo e continua con indefessa energia il suo lavoro alla casa editrice Faber & Faber alla testa del Criterion la rivista da lui fondata nel 1923 ha frequenti contatti con molti con Joyce di cui pubblica il poema Ece Puer combattendo con la censura per pubblicare l'Ulisse in Inghilterra e chiede recensioni su Goethe a Stephen Spender in Germania intense sono le sue lettere con Ezra Pound in risposta a quelle caotiche e geniali di lui discute l'opera di Marx con Keynes dibatte Kierkegaard sollecita commenti sul suo nuovo saggio ad H.G. Wells ma dopo 18 anni di vita insieme Elliot nel 1932 decide di dare un taglio netto a quello che lui considera un incubo ad una vita come confessava simile a un brutto romanzo di Dostoevsky e decide di accettare come una liberazione un incarico di sette mesi negli Stati Uniti all'Università di Harvard un distacco che prelude alla separazione definitiva dalla moglie scriverà che quei mesi in America sono il periodo più felice della sua vita un riposo necessario in cui ritrova la serenità perduta frequenta Francis Scott Fitzgerald Edmund Wilson William Burroughs ascolta le sue lezioni sugli eccessi sentimentali dei poeti romantici inglesi ammirando il suo umorismo senza del resto condividerne le opinioni un giornalista osservava che nel 1933 Illio prevedeva già che Hemingway sarà considerato il Kipling del suo tempo al Vassar College va in scena per la prima volta il suo melodramma comico Sweeney Antagonist e in questo periodo si accentua il suo interesse per il teatro che culminerà due anni dopo con un vero trionfio con Assassinio nella cattedrale con la moglie non vivrà più ma continuerà ad occuparsi di lei fino alla sua morte infatti quando lei minaccerà il suicidio lui si assumerà ogni colpa e deciderà nel 1938 di farla ricoverare in un istituto per malati di mente per questo da molti fu poi accusato di crudeltà nei riguardi della moglie quella moglie che morirà nel 1947 internata in manicomio a soli 58 anni ma quello di cui tutto il gruppo di Bloomsbury è innamorato è lui il bel pittore Duncan Grant prima amore conteso tra Litton Stretchy e Minor Keynes poi amico di Virginia e di Vanessa di cui diventerà anche il compagno e che diventerà poi il padre di sua figlia Angelica Duncan di origini scozzesi era il cugino povero di Litton Stretchy povero ma bello brillante pieno di fantasia con una naturale predisposizione per l'arte che sua zia la formidabile suffragetta Lady Stretchy incoraggiò e finanziò andò a Parigi per frequentare l'Accademia d'Arte e fu allora che fece conoscenza con Virginia Steven non ancora Wolf che aveva raggiunto sua sorella Vanessa in viaggio di nozze con Clive Bell la rivide ancora a Londra attraverso Litton Stretchy e da quel momento in poi la sua vita si legò indissolubilmente al gruppo di Bloomsbury che per la delizia di tutti fungeva da gentile folletto e di amante disinvolto di tutto il gruppo prima di Stretchy poi del futuro grande economista John Maynard Keynes in seguito del fratello di Stretchy James traduttore di Freud e quindi del fratello minore di Virginia e Vanessa Adrian insomma se li passò un po' tutti e il primo vero successo pittorico di lui fu questo Lemon Gathers esposto al Friday Club nel 1910 lo stesso anno in cui si unisce al gruppo di Bloomsbury Roger Fry Duncan sperimentò di tutto nel 1911 fece la decorazione di un ambiente nel Politecnico e le sue due grandi tele il nuoto e il calcio suscitarono non poche perplessità in Grant l'influsso dei francesi si mescolava in tutti i modi possibili la sua versatilità venne presa talvolta addirittura per opportunismo da Matisse ai Faux da Denis a Cézanne fino all'arte africana ai balletti russi l'occhio del pittore digeriva e rielaborava con intelligenza e originalità tutto quanto a coda dell'esposizione post impressionista del XII presentò anche questo quadro The Queen of Shiva in puro stile pointeist e con un soggetto narrativo che piacque immensamente ai conterranei lo ammirarono come si ammira l'illustrazione di una favola se avessero saputo che per le sembianze della regina Grancy era ispirato a quelle dell'amato Stretchy forse non si sarebbero entusiasmati poi non più di tanto si guadagnò perfino l'elogio di uno dei più ferrei detrattori del gruppo di Bloomsbury cioè D.H. Lawrence il famoso autore dell'amante di Lady Chatterley ma era noto anche per le sue tante follie o prodezze come lui amava dipingerle quando per una scommessa per esempio si ritrovò a passeggiare nudo da Gordon a Fitzroy Square avvolto solo in una piccola coperta o come quando a Parigi per arrivare più vicino al cielo come diceva lui un mercoledì mattina si mise ad arrampicarsi fino alla cima di Notre Dame ma a causa delle gargolle che gli afferrarono i pantaloni rimase mezzo nudo e costretto a nascondersi dietro a un diavolo e rimanere lì arroccato in uno sforzo al di sopra di tutte le sue forze o ancora quando vomitò durante un pranzo ufficiale per avere ingorgitato troppa marmellata di limoni o infine quando rubò un melone per dipingere una natura morta ma se ne dimenticò e dopo sei settimane il melone marcio aveva impestato tutta la stanza rendendola inabitabile la storia della relazione poi di Duncan con Vanessa Bell della loro convivenza a Charleston stupisce per l'assoluta fiducia reciproca nel lavorare fianco a fianco pur mantenendo la propria individualità l'intesa raggiunse l'apice con gli Omega Workshops di Fry dove i due si misero a produrre mobili tessuti vestiti intere decorazioni di interni chiusa l'esperienza Omega nel 1920 Vanessa ed Duncan continuarono a dipingere e a viaggiare insieme in quello stesso anno sono a Roma all'hotel di Russi e affittano uno studio a via Margutta poi sono a Firenze ai Tatti dove irritano Bernard Berenson le commissioni più profigue sono ancora quelle che li vedono come decoratori di interni per una clientela scelta di amici e di aristocratici per Kenneth Clark dipingsero un servizio di piatti con le effigi di donne famose ma Duncan vi aggiunse anche la propria immagine per Dorothy Wesley decorarono la stanza da pranzo nella sua casa di campagna nel 1930 la dama aveva dato scandalo anni prima lasciando il marito futuro duca di Wellington e i figli per scappare con vita Suckweer West era una poetessa apprezzata da molti ma non da tutti e per lei Bell e Grant si produssero in uno stile decorativo adatto ai nuovi tempi con una toletta di venere baccanali e altre figure nude e voluminose stesso gusto seguiva la decorazione richiesta nel 1935 per alcuni degli ambienti della nuovissima stella della flotta britannica la Queen Mary a Vanessa fu affidato un ambiente vicino alla cappella cattolica il clero informato della scelta le fece rescindere subito nonostante il contratto ed Duncan riuscì a piazzare invece le sue tre tele in una delle sale più grandi furono staccate letteralmente dal direttore della Kunar Line il giorno dopo che erano state affisse ebbero maggior fortuna nel sacro quando realizzarono nel 1941 quello che forse è il loro vero capolavoro congiunto una piccola chiesa a Berwick nell'East Sussex e così proseguì in nature morte soprattutto nei ritratti che erano sempre stati le loro cose migliori fino alla morte di Vanessa nel 1961 ad accudire Duncan rimasero la figlia Angelica che nel frattempo era stata informata sulla paternità e aveva sposato l'antico amante di lui David Garnett e il poeta Paul Roche amore della tarda età di Duncan soggetto dei suoi nudi maschili più famosi gli ultimi anni Duncan li passerà proprio a casa di Roche Roche sposato con cinque figli e morirà morirà l'8 maggio del 1978 eccoci qua per oggi chiudiamo qui la nostra conversazione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti